Amici e amiche di LegaNerd, bentornati! Io sono Alessio e sono il vostro traghettatore scientifico di Eureka. Allora, prima di tutto iscrivetevi al nostro canale di YouTube, attivate la campanellina così non perderete nessuna delle nostre notifiche. Ma bando alle ciance, in cinque minuti parleremo di cibo, insetti e tanto altro ancora. Insomma amici di LegaNerd, chi è che non ha visto Indiana Jones e il Tempio Maledetto? Quella bellissima scena nella quale a Indy che suoi compare iniziano a mangiare cibari un po' particolari, quindi tra serpenti vivi, scarafaggi ed altro, effettivamente la scena era un po' particolare. Parliamo di Indiana Jones perché il 3 maggio del 2021 la Commissione Europea ha dato il via al consumo alimentare di una specie di insetti. L'insetto preso in considerazione è la larva delle tarme della farina. Questo insetto è un coleottero, il suo nome scientifico è Tenebrio molitor, quindi a gennaio appunto di questo anno, del 2021, l'autorità europea per la sicurezza alimentare, che ha sede a Parma, aveva dichiarato le larve delle tarme della farina sicuro per il consumo umano. Insomma quindi da lì praticamente si è esploso un mondo, perché insomma sappiamo che all'interno diciamo della dieta alimentare di moltissimi paesi, soprattutto quelli orientali, il consumo degli insetti non è proprio una cosa così rara. Da lì praticamente si è cercato di studiare qualsiasi tipologia, anzi studiare altre tipologie di insetti ovviamente comuni nel nostro paese che potessero appunto rientrare in una dieta alimentare. Ad approvare la proposta della Commissione è stato il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi che è formato da rappresentanti di tutti i 27 paesi membri dell'Unione Europea ed è preso da rappresentanti della Commissione. La proposta appunto prevede che le larve delle tarme della farina possono essere vendute e consumate come cibo in due formati, disidratate e intere, oppure come farina da usare come ingrediente di altri alimenti, ad esempio dei prodotti di forno, creme ed altro consumo, ad alto consumo proteico, perché come ricordiamo Bear Grylls ogni larva che è possibile individuare nel nostro penne da terra sicuramente è piena di proteine. A parte gli scherzi effettivamente ha un consumo proteico veramente, veramente alto. Appunto come abbiamo detto prima nel mondo milioni di persone utilizzano gli insetti già nella loro dieta alimentare e la FAO, l'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura delle Nazioni Unite, li considera una risorsa alimentare veramente importante ma soprattutto salutare e anche molto nutritiva, che può essere appunto come Bear Grylls ci insegna, fonte di grassi, di proteine, di vitamine, di fibre e di anche molti minerali. Inoltre non è nel 2021 che si parla di cibo del futuro ma è già da moltissimo tempo che si cerca di far capire che la carne e il pesce non sono gli unici due alimenti oppure anche le verdure piene di proteine ed altro. Il cibo del futuro è effettivamente un cibo che è possibile ottenere in grandi quantità e gli insetti in questo effettivamente si trovano in grandissime quantità nel nostro penne da terra. Ovviamente con relativamente ridotti i dispendi energetici e emissioni di gas e serra che sono praticamente la causa del cambiamento climatico. E dall'altra parte c'è il fatto che la produzione della carne è ovviamente una delle attività con più dispendi di energie e soprattutto per quanto riguarda anche il cambiamento climatico. Controindicazioni di questa dieta un po' particolare? Ovviamente sì, come tutte le diete alimentari ci saranno comunque delle controindicazioni. Ovviamente riguarda le persone che sono allergiche ai crostacei e agli acari della polvere perché potrebbero essere allergiche anche a questi insetti. Insomma, che cosa dire? Buon appetito a tutti coloro che rientreranno in questo discorso di cibo del futuro. Noi lo proveremo? Ma sì, probabilmente sì, lo proveremo perché comunque se c'è una commissione scientifica che lo approva, perché no? Insomma, il cibo del futuro potrebbe essere veramente anche il cibo del presente. Se vi è piaciuta questa pillola fate un like al nostro video e ci vediamo al prossimo approfondimento. Ciao ragazzi!